Buongiorno a tutti e tutte e benvenuto al nostro concerto appuntamento con la bellezza. Io sono Francesco Arculeo, amministratore delegato e fondatore di La Galen Milano. Siamo qui dal nostro La Galen Apulian Retreat, oggi per parlare di aloe vera. L'aloe vera è un principio attivico contenuto nella nostra Intensive Renewal Elysir. Ed è un principio attivo, o meglio, i principi attivi estratti dall'aloe vera. L'aloe vera è una pianta, una pianta semi grassa. Sono molto importanti perché hanno uno straordinario produttore idratante. E come ho detto più volte, l'idratazione che comporta rimpolpamento della pelle è assolutamente un obiettivo da perseguire durante il nostro skin care. Infatti l'aloe vera, appunto, reidrata e ribilancia anche con il suo apporto di elementi oligominerali e anche la pelle dal punto di vista, appunto, dei minerali essenziali che sono necessari per la buona salute della pelle. Bene, non ci resta che salutarci e a presto al prossimo appuntamento. Ciao!